Oggi Terre Sabatine è insieme a uno dei personaggi più amati di Aquillara, un allevatore che è anche un grande conoscitore del territorio e soprattutto di quello che verrà percorso nella terza tappa del Cammino delle Terre Comuni. Quindi la sua esperienza e la sua narrazione è fondamentale per conoscere proprio il territorio che percorreremo domenica prossima. Allora, signor Sergio, mi piacerebbe porle qualche domanda appunto per aiutarci a conoscere meglio Aquillara e il percorso che faremo. Ci risulta che Aquillara era sede di una università agraria, lo è stato fino a un certo punto. Sì, è nata per aria. Che cosa è successo? Ne hanno litigato. Quindi è finita l'esperienza dell'università agraria. E non l'hanno fatta finire. E quindi questi usi civici, queste terre comuni, queste proprietà collettive, come e a chi sono state destinate? A chi sono state assegnate? Sono state assegnate ai cittadini d'Anguillara. Perché mi raccontava con tempo era più semplice ottenere... Sì, facevano delle spartizioni magari prima un po' maligne perché davano la terra a tutti. Se una famiglia era di diecette, di dieci persone e uno che era solo, prendeva quante quelle dei dieci, per esempio. Non era giusto. Ah, quindi era pure motivo di lite? E pure di... 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 che la proprietà era di loro e poi piano piano con i scioperi andavano lì a prendere questi pezzi di terra e gliel'hanno data, diciamo, a semina. Cioè, c'avevano un turno. La dovevi tenere per due anni. Uno ci metteva il grano e l'altro ci si metteva l'orzo, qualunque cosa, insomma. Pure le lenticchie, per dire, i ceci, i fagioli, ci mettevano tutto. Per migliorare la produzione, no? Perché... Certo. Le terre, diciamo, sono venute così, insomma, non di tutte le parti. C'è Valle Facciano e Cespa Nora, che aveva questo problema di Torlonia, che aveva pure un diritto, te la faceva seminare due anni, un anno a grano, un anno a orzo, oppure altre cose. Sì, però era sempre deluro a terra. Una sorta di gestione. C'avevi due anni. Un anno a grano e un anno a viata, a orzo, a occupare questi terreni, perché i padroni non li volevano lasciare. E allora... Ah, era proprio una vera e propria occupazione. Una propria occupazione. E dove passavano questi terreni delle proprietà collettive? Se lo ricorda? Beh, c'è Valle Facciano, c'è i sordi lunghi, Spanora... Sì, più o meno è quello che percorreremo dopo. Noi saremmo ore a sentire i racconti del signor Sergio Pierdomenico, però a questo punto la salutiamo, la ringraziamo e diamo appuntamento a tutti a domenica per conoscere le terre, appunto, di cui abbiamo parlato insieme a lei. Ah, volete andare sul posto? Sì, faremo una camminata proprio sulle terre di cui abbiamo parlato insieme. Alla scoperta del territorio, perché, insomma, è importante sapere da dove veniamo.